E' stata messa a segno dai carabinieri della compagnia di Trapani l'operazione culminata ieri pomeriggio con l'arresto in un appartamento a Castelvetrano di Francesco Paolo Cammareri, detto Pummaroro, latitante dallo scorso 15 luglio quando era evaso dagli arresti domiciliari strappandosi il braccialetto elettronico rinvenuto nei pressi della sua abitazione e facendo perdere le proprie tracce. L'uomo con numerosi precedenti penali era stato arrestato circa un anno fa perché ritenuto responsabile insieme ad altri complici ancora ignoti della violenta rapina messa a segno nel gennaio del 2019 ai danni dei coniugi Salone picchiati e narcotizzati nella loro villa di Casa Santa. Era stato poi posto ai domiciliari nella sua abitazione di Trapani, Nerdione e San Giuliano dove lo chiamavano padrino per i contatti da lui millantati con esponenti di Cosa Nostra. Durante le indagini coordinate dal sostituto procuratore Brunella Sardoni e la supervisione del procuratore di Trapani Maurizio Agnello, i carabinieri hanno messo sotto stretta osservazione i familiari facendo attenzione soprattutto ai luoghi da loro frequentati e alle abitazioni dalle quali entravano ed uscivano. Ad insospettire gli investigatori in particolare sono stati ripetuti spostamenti della moglie di Cam Mareri che con cadenza quasi quotidiana si recava a Castelvetrano verosimilmente per dare assistenza al marito, cambiando autovettura nella speranza di sfuggire ai controlli. Dopo diversi giorni di pedinamenti i carabinieri sono arrivati in un'abitazione del centro di Castelvetrano dove ieri è scattato il blizz quando l'uomo è comparso sull'uscio di casa per accompagnare la moglie, venendo così allo scoperto. Dopo l'irruzione Cam Mareri, bloccato, non ha potuto far altro che congratularsi con i militari dell'arma. All'interno della casa è stato trovato un borsello con due pistole cariche con matricola brasa e munizioni. A favorire la sua latitanza sarebbe stata una coppia di Castelvetrano arrestata per favoreggiamento. Al termine delle formalità di rito, Francesco Paolo Cam Mareri è stato rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.